Eh, eh, guardi, tutti insieme noi cantiamo Eh, eh, guardi, nei tuoi occhi noi guardiamo Nel tuo volto riconosciamo Albert! mustache! Albert ci sei? Vuoi anche usare il citofono non devi continuare a dare il mio nome per tutto il quartiere Perché? Tutti sanno che ti chiami Albert e che abiti qui C'è scritto anche in questa targhetta Sì Cat, quello è il fantomatico citofono per chiamare le persone che stanno dentro la casa Bene, allora la prossima volta userò quello Per ora fammi entrare con una fame pazzesca Ti pareva Stai che facendo i conti ma Dai, mangia quel piatto di biscotti che c'è sul tavolo Stai sempre a pensare a scienza natura eccetera eccetera Dove essere stati un po' questi biscotti? Sembrano buonissimi Ma Perché hai una cucina piena di burro e biscotti? Gli ha fatti un ragazzo un compagno di mia sorella credo E sto fidanzato? Fida cosa? Non ne voglio sapere Un ragazzo che face quello scoffolo di mia sorella Ti serve quello scoffolo se chiede che non sei altro Mare i biscotti le hai fatti guidnante a me Oh Un ragazzo cucinato per te Sì E sei anche dichiarato davanti a tutti Che bello Posso far fidarmi già da d'onore Posso tenerti bene Posso portarti i petali di rosa fuori dalla schietta Ti prego Ti prego A me nessuno mi ha mai fatto una dichiarazione Sì è stato molto emozionante Voi donne Devevo sempre stupirvi che ho fatto una bella di dire Alberto Guarda che basta poco per impressionare una ragazza Guarda questi biscotti li ha fatti il mio William questa notte così che la mattina posso erogarti per me Oh Mirna che gesto nobile Ragazzo d'altri tempi Oh Mirna che gesto nobile Bla 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 Mua 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 Che schifezze Appena arrivato a scuola mi ha fermato e mi ha dato il baccato con i biscotti e E Mi ha mangiato Sì non ha detto niente di che però insomma questo gesto ha veramente detto tutto Bleh Come ti invidio Mirna Hai proprio ragione Mille parole non avrebbero un senso senza un bacio E' un po' come da piccoli quando la mamma veniva a darci un bacio prima di andare a dormire o appena svegli Non diceva niente però significava affetto e protezione O come quando la nonna mi dava un bacio al parco Un po' mi vergognavo a farmi vedere dagli altri bambini però con quei baci la nonna mi stava recendo un fiume di parole che mi voleva bene che 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 voleva la mia felicità beh robe da donne Albert non sono affatto robe da donne anche i ragazzi usano le labbra come 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 le ragazze già già le labbra possono servire per parlare la voce ma anche per parlare con il cuore proprio come fanno i nostri genitori quando si baciano perché è per dimostrare il loro affetto e per vedere come si mogli bene spero di incibacuata il nostro robot non ha le labbra dobbiamo provvedere vedremo purché si limiti a parlarci ci manca solo che adesso i robot si mettono a baciarci parla con il tuo fidacoso e che bravo per fare da te che chiedi di se ci potremmo vedere per trovare una bocca ok sarà fatto però non deve essere nulla da mangiare perché con Kat non tu legerà più di tanto e e e e tutti insieme noi cantiamo e e e e nei tuoi occhi noi guardiamo nel tuo volto riconosciamo il sole e il tetto per la vita che vogliamo